Le migliaia di tamponi a bambini e ragazzi, le code, le classi in quarantena, i genitori costretti a perdere giorni di lavoro. Il nodo del monitoraggio del virus nelle scuole preoccupa le istituzioni, che si interrogano su quanto a lungo il sistema, così com'è, possa davvero reggere. Certamente anche lì è una cosa molto delicata, certamente l'impegno dell'ASRA a fare il maggiore dei tamponi possibili non deve diventare però un boomerang. Quindi io credo che anche da parte, mi permetto di dire, dei medici di base, pediatri e quant'altro, forse bisognerebbe fare una cernita più accurata per evitare che ci siano poi assembramenti veramente inutili e soprattutto tanto panico e tanti disservizi. Il presidente della Camera di Commercio appoggia in pieno l'idea dell'US2 e del direttore Francesco Benazzi di andare a eseguire i test rapidi direttamente a scuola, evitando trafile e quarantena ai negativi. Ma fa valorissimo, bisogna quanto prima metterle nelle condizioni, non possiamo pretendere che un genitore perda giornata di lavoro o che un genitore stia in macchina ore per aspettare di fare il tampone. Se c'è un'emergenza ci deve essere una squadra che vada nella scuola e faccia subito i tamponi. Io non mi sento che di condividere queste scelte, fatte sempre nell'ottica, questo è stato ribeto più volte, di salvaguardare la salute pubblica ma al tempo stesso evitare il più possibile blocchi che sarebbero un danno anche per la scuola che come sappiamo sta ripartendo con grandi difficoltà.